Essere in possesso di conoscenze coerenti e di elevata qualità su tutti gli aspetti del patrimonio letterario italiano ed europeo è divenuto oggi indispensabile. Tutto ciò deve essere approfondito e contestualizzato attraverso i più aggiornati metodi e strumenti linguistici, teorici e filologici. Inoltre l'acquisizione di conoscenze storiche, filosofiche e storico-artistiche consoliderà il conseguimento di competenze avanzate circa la comunicazione letteraria dell'Italia moderna e contemporanea e dei suoi innessi culturali a livello europeo e internazionale. Il corso di laurea magistrale in filologia moderna forma professionisti competenti sulle questioni relative alla letteratura e alla linguistica. Il percorso perfeziona la capacità di analisi e di comparazione tra linguaggi letterari, critici e teorici. Ciò avverrà attraverso l'analisi delle varie forme testuali, delle loro caratteristiche, del loro significato e delle relative modalità di circolazione. L'obiettivo è raggiungere autonomia di giudizio e una sempre crescente competenza critica, translinguistica e transculturale. I laureati saranno specialisti della formazione, dello studio del patrimonio culturale e della ricerca. Potranno inoltre assumere ruoli professionali tipici del mondo editoriale, delle redazioni giornalistiche, di istituti e fondazioni culturali. Scuola, case editrici, centri di documentazione, radio e televisioni sono solo alcuni degli ambienti professionali in cui mettere a frutto il proprio sapere. Un ponte tra il patrimonio culturale le opportunità del futuro.